Buonasera, benvenuti a Tg Scuola. Presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale si è tenuto il corso di formazione per docenti interamente dedicato alle potenzialità didattiche dei social network e all'educazione e ai principi della ricerca scientifica in rete. Approfondiamo l'argomento con i nostri ospiti. Luca Piergiovanni, insegnante di Italiano Geografia e Storia e formatore di didattica digitale. Buonasera. Buonasera. Nives Zudic Antonic, direttrice del Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale di Capodistria. Buonasera. Buonasera. Dunque, iniziamo subito con l'ospite d'onore, diciamo, colui che ha istruito i docenti che si sono iscritti al corso. Qual è l'importanza oggi del conoscere appunto la didattica digitale per un insegnante? Sì, è molto molto importante perché le potenzialità che ci offre la rete, internet e il web sono tantissime. Sono tante anche le criticità, però proprio per questa maggior ragione un educatore di questi tempi deve conoscere quest'ambiente. per appunto superare quei problemi e quelle criticità che ci sono e sfruttare invece al meglio le potenzialità che esso offre. Tutto questo, ecco, aiutare i ragazzi e avvicinare di più il mondo della scuola a quello che è il mondo dei giovani. Oggigiorno per loro l'uso quotidiano della rete è un'attività spontanea, che viene per loro naturale. E quindi l'insegnante può giocare su questa possibilità che il ragazzo ha di per sé per poi istruirlo e avvicinarlo invece a quelle che sono le pratiche di studio ai quali tutti siamo abituati. Faccio un esempio concreto. I ragazzi di oggi sono abituati più che altro, per usare una metafora di un ostigioso americano, a fare surf sul mondo delle informazioni. Noi bisogna aiutarle a ritornare dei sub, quindi quella capacità di andare in profondità a cogliere le informazioni. Possiamo farla attraverso internet. Se ci pensiamo il web è una palestra grandissima per questa, perché in rete troviamo di tutto. Troviamo quindi fonti attendibili, ma anche fonti che non lo sono, risorse e informazioni veritiere dalle cosiddette bufale che girano nel web. E quindi istruire i ragazzi, guidarli a fare una ricerca con i principi scientifici nel web li aiuta a capire meglio questo mondo e a diventare dei cittadini digitali. Ecco, per fare tutto ciò, professore Sasudici, è importante essere capaci prima di tutto noi adulti a farlo. Anche per questo che ha organizzato questo corso per i docenti. Sì, questo è il secondo anno che abbiamo tra l'altro, o che ospitiamo il professor Luca Piergiovanni, perché anche il primo anno, lo scorso anno quando l'avevamo chiamato, l'avevo praticamente scoperto perché avevo visto che faceva formazione in Italia, faceva formazione anche all'università molto vicina a noi, come ad esempio collaborava con un docente dell'università di Padova. E per questo motivo lo avevo chiamato per quel tipo di formazione. E poi invece i docenti erano molto soddisfatti lo scorso anno e mi avevano chiesto, si vedeva che c'era questa necessità. Loro di solito, io di solito ogni anno faccio formazione in base un po' anche alle necessità delle scuole. e mi informo prima quali sono le necessità e questa era una carenza che avevano, anche perché loro fanno molta formazione digitale, ma forse non collegata direttamente con il loro corso. Ad esempio, proprio quello che stava dicendo, è un corso che permette agli insegnanti di crescere, ma che permette anche poi di far conoscere ai ragazzi certe caratteristiche che magari loro neanche le hanno. Perché ad esempio quello che ci fa scoprire il professor Pier Giovanni è proprio il fatto di far conoscere ai ragazzi alcune che magari loro pensano di conoscere benissimo il web, in verità scopriamo che non è proprio così. Perché ad esempio io anche di fronte ai miei studenti molte volte magari non so usare la tecnologia, in verità poi scopro che loro invece non sanno entrare ad esempio a fare ricerca analitica nella tecnologia, quella che noi invece sappiamo perché la conosciamo già dal fatto anche del fattore, ad esempio, cartaceo. Ma forse loro non stanno a fare ricerca analitica neanche appunto sul cartaceo. E infatti, ma perché sono più abituati ad andare proprio a fare ricerca veloce, no? Come diceva prima, fare il surf, andare velocemente, oppure trovare anche dei siti che non sono adeguati. Allora il nostro compito è anche questo, no? Aiutarli a migliorare proprio tramite le tecnologie anche la loro conoscenza. Anzi è un fattore molto positivo. Assolutamente. Ecco, a questo punto vediamo che cosa ci hanno detto alcuni partecipanti al corso. Per quale motivo hanno scelto di iscriversi? Partecipo a questo seminario semplicemente per rendermi conto di quanto sta cambiando il mondo della scuola e dell'insegnamento e quanto bisogna assolutamente cambiare ancora. Prima è intervenuta, posto una domanda appunto sulla tutela dei dati sensibili dei minori. Sì, è un problema legale che purtroppo non ha una legislazione chiara e precisa. Come in tutte le cose siamo un po' indietro anche da questo punto di vista e ancora se ne discute quando dovremmo invece già avere una legge e già sapere cosa fare. Invece siamo costretti ancora a discuterne e le cose si interrompono appunto per questioni burocratiche e legali di questo tipo. Io ho già seguito un seminario simile quindi dalla tematica sulla digitalizzazione della scuola, di questi social, insomma di didattica digitale e ho cominciato a usare un po' più questi metodi, ho visto che in alcune cose funzionano perché motivano di più i ragazzi e vorrei saperne di più, quindi utilizzare strumenti nuovi. E insegna in un ginnasio, dunque quali sono le esigenze dei ragazzi, degli adolescenti per quanto riguarda appunto l'insegnamento digitale? Ecco, i ragazzi essendo queste generazioni che con i social, che con i telefonini, che con il computer crescono, hanno un po' di, come dire, si sentono forse più a loro agio utilizzando strumenti a loro vicini, quindi in questo senso forse è bene motivarli usando strumenti che conoscono e che non li fanno sentire a disagio e con i quali qualche volta possono anche insegnare qualcosa a noi. Quando un ragazzo ti dice, aspetti professoressa, le faccio vedere io, si sentono importanti, si sentono più motivati. Quale motivo hai scelto di seguire questo seminario? Ma per avere così degli spunti, dei suggerimenti, come tutti i seminari, ma a volte ci sono quegli aspetti che possono interessare e poi magari si sviluppano in seguito. Questo seminario presenta come sfruttare Twitter o la webquest per le lezioni scolastiche, mi interessava soprattutto la seconda parte, per far collaborare e rientrare tutti gli alunni che partecipino alle lezioni in maniera attiva. Qual è la sua conoscenza appunto di internet, dei social, come si muove in questo mondo? Sfrutto internet ogni giorno e anche social network, per esempio Facebook perché gestisco la pagina Facebook della nostra scuola e mi distraggio abbastanza bene, insomma. I nostri alunni hanno un approccio contro tendenza rispetto a quanto detto perché sono abbastanza consapevoli, le loro baccheche sono abbastanza neutre, no? Non è che mettano le cose troppo personali sulle proprie baccheche. Dunque abbiamo sentito per quale motivo questi insegnanti hanno scelto di seguire il corso di formazione ed abbiamo sentito anche che ci sono alcune perplessità che permangono, come ad esempio l'insegnante che si è chiesta cosa fare con i dati sensibili dei minori, professore. Sì, questa è una tematica molto importante, però esistono oggi ad esempio dei browser come Mozilla Firefox che permettono di salvaguardare i nostri dati sensibili. Esistono dei motori di ricerca, anche questi che proteggono i nostri dati, ma ancora meglio ci sono dei motori di ricerca educational, cioè significa motori che vanno ad indagare in un archivio di risorse di siti web già selezionati a priori. Quindi noi abbiamo la doppia efficacia per cui i nostri dati, la nostra privacy è salvata e allo stesso tempo permettiamo tramite questi motori di ricerca permettiamo ai nostri studenti di andare a ricercare informazioni in siti già vagliati e quindi attendibili dal punto di vista scientifico. Insomma, delle soluzioni ci sono, l'importante è conoscerle ed è questo che deve fare l'insegnante, aggiornarsi per capire quali possono essere i rimedi possibili e avere la libertà di scelta e quindi decidere poi dopo lui, calato in situazione, nella propria classe quali strumenti o quali ambienti diversi del web poter usare. Io penso che il web abbia sostanzialmente tre grandi potenzialità, tre grandi pregi uno è questa massa di risorse didattiche che ci sono, gratuite, libere e che ogni insegnante può sfruttare per arricchire le proprie lezioni, per permettere ai propri studenti di diventare loro degli editori di contenuti perché poi questa alla fine è, se volete, anche un po' ambiziosa, però è la finalità alla quale tutti dobbiamo aspirare fare in modo che siano loro poi a creare contenuti. E l'altra grande opportunità è il fatto che oggigiorno un insegnante tramite la rete, seguendo un gruppo di colleghi, partecipando a forum o seguendo anche tanti corsi di formazione online che ci sono gratuiti, può aggiornarsi, può aggiornarsi e avere ogni giorno input, risorse, idee, un flusso continuo ecco, dallo scambio, dalla condivisione che nasce la ricchezza di ognuno di noi e internet ci permette tutto questo. Certo, voi due avete un curriculum che parte appunto dall'insegnamento, tutti e due, per questo motivo chiedo a tutti e due C'è la necessità di una diversa conoscenza della rete in base all'età dei propri alunni o allievi? Iniziamo dall'esperto poi... No, 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 sì, chiaramente... Da parte degli insegnanti? Sì, chiaramente dal... come dire, tutte le attività didattiche, di didattica digitale, si possono comunque affrontare, attivare con studenti di qualsiasi età, però poi bisogna avere dell'accortezza a seconda dell'età degli studenti. Ad esempio, mi sentirai di dire che con i bambini ancora bisogna salvaguardare la scrittura a mano, la pratica della scrittura a mano su carta, così come la lettura su carta. E se dovessi introdurre dei dispositivi mobili in una scuola, ecco, lo farei, ma con studenti, insomma, dai 14 anni in su, diciamo così. Fino a una certa età salvaguarderei il... perché ci sono degli studi di neuroscienze che dimostrano come la... ancora la scrittura su carta o la lettura su carta è molto più lineare, no, rispetto a quella che può avvenire su un e-book. Permette... Ci va a influire praticamente sulla capacità... Sì, sui schemi mentali, assolutamente, sì, del ragazzo. E quindi, ecco, bisogna sicuramente direzionare, canalizzare le varie attività a seconda dell'età dei ragazzi. Però poi si può davvero introdurre, e anzi, io la vedo come un fatto positivo l'introduzione del web, anche perché se vogliamo aiutare i nostri studenti ad affrontare la complessità del mondo odierno e a diventare veramente degli cittadini digitali bisogna iniziare dalla scuola, bisogna parlarne a scuola. Dunque i bambini più piccoli, quelli delle prime classi, quale uso del web possono fare? Sì, con gli insegnanti in questo corso abbiamo già affrontato, tanto per fare un esempio concreto, la ricerca in rete e l'utilizzo di uno strumento che si chiama WebQuest, che è una griglia preparata dall'insegnante e permette di guidare i ragazzi nella ricerca attraverso la rete. È chiaro che se viene proposta a studenti di liceo o comunque di scuola superiore, la WebQuest verrà strutturata in un certo modo. Per i bambini può essere ad esempio congegnata a modi caccia al tesoro, che allora c'è anche quell'aspetto ludico divertente che è adattissimo per ragazzi più piccoli. Quindi tutto può essere rimodellato a seconda del bisogno e della situazione in cui ci troviamo. Ecco, professoressa Zudic, invece i suoi allievi, che saranno futuri insegnanti, hanno la possibilità già durante il percorso universitario di migliorare la loro conoscenza e dimestichezza con il Web ai fini didattici? Allora sì, certamente. La prima cosa che facciamo noi come docenti è di farne uso. Io non posso proprio vantarmi di essere una grande conoscitrice, però diciamo ho un'esperta nel campo, per questo infatti ho fatto anche formazione in questo campo, però abbiamo una docente che si occupa proprio di didattica delle tecnologie e siccome, diciamo, quello che praticamente noi cerchiamo di fare è nei quattro anni di corso di prepararli comunque facendo vedere come si può fare. Proprio di prepararli, come ha spiegato anche il docente, in base al primo anno iniziando con delle cose e con l'esempio. Poi invece al quarto anno c'è proprio questo corso di didattica delle tecnologie e che invece le fa la mia collega, che forse sarebbe stata anche più idonea che fosse qua, ma comunque diciamo che lei invece li prepara proprio all'uso di certe, proprio la web quest, perché lei si è formata proprio con la web quest, ad esempio ha fatto la tesi di master in questo campo e insomma li prepara a quella che è invece una formazione didattica in questo campo. Proprio abbiamo cercato di farlo perché molte volte succede che anche in corsi, ad esempio, di didattica magari non se ne parla. Ultimamente io penso di sì perché ormai la didattica delle tecnologie è molto in voga, anche diciamo in Europa ormai è quasi un obbligo farlo. Però diciamo che fino agli anni, anche quasi fino al 2005 ad esempio, così diciamo non si faceva formazione in questo campo. E molte volte gli insegnanti, infatti ieri proprio parlavo con una docente che arriva da Trieste che mi ha detto che ha dei problemi a scuola perché non tutti i docenti sono interessati a fare questo, anzi sono proprio resti. Infatti è un impegno in più, insomma bisogna imparare un linguaggio completamente diverso. Non soltanto il linguaggio, ma ieri abbiamo sentito che i docenti dicevano anche che di solito per preparare ad esempio un'ora di lezione di 45 minuti qui da noi, ad esempio ti ci vogliono anche 5, anche tante ore in più perché devi fare una ricerca molto dettagliata se vuoi preparare, ad esempio portare in classe qualcosa di ben definito ad esempio, ben preparato anche, no? Assolutamente, anche perché non si può lasciare una lezione aperta con un'incognita, cioè preparata e chiusa a sapere insomma dove si va a parare. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, nel senso che anche da noi ad esempio in Italia si parla tanto di didattica per competenze, di didattica digitale e siamo in una fase di grande transizione, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza. Però bisognerebbe che concretamente ci fosse l'opportunità che gli insegnanti potessero passare da quella che è la programmazione didattica alla progettazione. E allora iniziare a progettare, meglio se tutti insieme, dei percorsi da far fare ai propri studenti e in quel caso lì per avere anche il coraggio, come dire, di lasciare per strada alcuni argomenti, quindi fare delle scelte. Perché la didattica digitale richiede più tempo rispetto a quella tradizionale e richiede un grande lavoro soprattutto sulla motivazione, perché può sembrare incredibile ma in tanti percorsi del genere magari uno pensa di appassionare, di coinvolgere di più gli studenti, questo avviene nella fase iniziale. Poi è anche probabile invece che nel proseguo perdano anche un po' di coinvolgimento e allora bisogna continuamente lavorare sulla motivazione. Bene, a questo punto vediamo quali sono le esperienze di alcuni docenti che hanno partecipato e l'esperienza nel campo della didattica digitale. Qual è l'uso che lei fa appunto di internet in classe con i bambini? Ecco, i ragazzi uso YouTube spesso per qualche video, lo usiamo per commentare qualcosa e poi usiamo una classe virtuale dove i ragazzi possono intervenire e chiedere cosa c'è per compito per il giorno successivo, se hanno dimenticato o non si sono appuntati le cose, al commentare una rappresentazione a teatro per esempio, un libro che hanno letto, dove ci incontriamo anche fuori dall'aula virtualmente. Spesso, forse non più adesso, ma fino a pochissimo tempo fa, si pensava che si potesse usare il computer o la rete per fare lezioni nelle materie scientifiche. Lei invece è un esempio lampante che si può fare lezioni anche per quanto riguarda le materie umanistiche, visto che insegna arte. Ecco, forse in alcuni casi anche insegnando arte è molto vicina a questa cosa del digitale perché puoi inserire un elemento di estetica in tutto quello che sono le lezioni, quindi utilizzando dei programmi, facendo delle infografiche, puoi insegnare l'estetica, insegnare che ogni prodotto che tu fai e lo fai vedere ai ragazzi, pensato dietro, analizzato e curato è anche il riflesso di quello che è la conoscenza dell'arte e di alcune regole estetiche. Quali piattaforme usa? Uso le piattaforme Google, quindi drive, questionari, uso cose per creare video, uso veramente un po' di tutto, poi si adegua a quella che è la lezione che vogliamo trasmettere. Come rispondono i tuoi alunni all'uso di internet o dei social se li usate in classe? La mia impressione è che sono molto confusi perché si ritrovano comunque in un mondo che non è loro sostanzialmente, diciamo che è il luogo comune, che i giovani sono bravi col computer, che si trovano bene usando il computer, ma poi quando si vuole provare a lavorare col computer c'è grande confusione. hanno bisogno di una guida in questo senso, per questo è importante diciamo che a scuola si affronti l'argomento in un certo ambito, in un certo modo. Per le mie lezioni non uso il social network, ho fatto però coinvolgere tutta la classe con un flipbook dove per esempio abbiamo sviluppato l'argomento dell'odissea. Ogni alunno comunque faceva il proprio lavoro, abbiamo analizzato i 24 canti, ognuno scriveva i propri riassunti che venivano corretti dall'insegnante, poi facevano anche l'illustrazione di ogni capitolo, quindi l'insegnante registrava gli alunni mentre leggevano ognuno il proprio riassunto e poi li ho messi tutti sul flipbook, così ne è uscito un libro digitale nel quale c'è l'immagine del canto, il riassunto del canto e poi con un clic si sente anche l'alunno che legge il riassunto del canto. Questo è un grosso lavoro, ci sta dietro da parte dell'insegnante, non è così facile come sembra, però era una classe di alunni che non aveva grosse abilità lavorative. Ho cercato di coinvolgerli in questa maniera maggiormente affinché poi apprendessero meglio le lezioni, infatti i risultati si sono visti. E attualmente questo materiale si trova sul sito? No, quello è privato perché non voglio... Per proteggere la privacy dei nostri alunni, quello là è materiale che gira solo all'interno della nostra scuola, o tramite blog o ancora meno, anche senza blog, no? Tramite chiavetta solo fra di noi. Quanto è importante usarli, usare internet ma anche i social nella didattica? Ma io su questo forse vado un po' controcorrente, ma penso che possono essere un valido strumento se usati in un certo modo, però io resto, diciamo, favorevole a una didattica che privilegia i contenuti, più che questi concetti un po' di condivisione, condividere, condividere, ma è importante anche cosa condividere. Penso che ci sia una grande spinta, diciamo, commerciale nel proporre questi strumenti, ma poi rischia, insomma, di essere tutto un po' superficiale. Ecco, i corsi seguiti sono sicuramente un ottimo input, perché ti danno delle idee che magari tu da solo non ci arrivavi, non ci pensavi, quello è la cosa principale. Poi sta a te approfondire e imparare, perché all'inizio è sempre difficile, poi man mano che vai avanti ci sono nuove idee, sei sempre più bravo, aumenti, puoi aumentare di qualità quello che sono i tuoi prodotti, quello che sono gli esercizi che fai fare ai ragazzi. Quindi c'è tanto, tanto lavoro autonomo, però l'input è sempre molto buono e ben accetto. Quando hai iniziato a usare internet per fare lezioni? Da quest'anno, da quest'anno anch'io appunto sto cercando di, seguendo anche questi seminari, di usare meglio. Questo è il primo o è uno dei primi seminari che seguo? No, questo è il primo seminario che seguo. Dunque finora ha messo in pratica le sue conoscenze personali? Sì, sì, da autodidatta, ecco, quello che vedevo, quello che serviva a me, poi cercavo di condividerlo anche con i ragazzi, ecco, ma seriamente, un seminario dal punto di vista scientifico, universitario invece è il primo passo. E lo considera estremamente utile? Sì, assolutamente, estremamente utile, perché non ci rendiamo conto di quanto sta cambiando. Dunque, abbiamo sentito le esperienze in campo della didattica digitale di questi insegnanti, sono varie, possiamo dire dall'autodidatta a chi è più scettico, a chi si impegna forse un po' di più, ma come ci diceva il professore, siamo quasi 5 miliardi tra poco connessi alla rete e addirittura agli insegnanti si chiede un determinato numero di competenze. Sì, 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 la comunità europea ci fa presente che l'insegnante del XXI secolo dovrebbe possedere almeno 33 competenze digitali e anche allo studente sono richieste per affrontare bene il mondo del lavoro almeno 8 competenze di questo tipo. Ecco, secondo me l'insegnante giustamente si deve approcciare a questo mondo in maniera critica, però anche aperta, nel senso che è bene avere dei dubbi, capire ciò che va e ciò che invece può essere lasciato da parte. L'insegnante deve essere libero in classe di organizzare il suo lavoro come meglio crede perché sappiamo tutti che la classe è un micromondo, ogni classe è diversa dall'altra e quindi va benissimo la libertà di poter scegliere determinati strumenti però bisogna aprirsi verso questa didattica che potremmo definire multicanale cioè oggigiorno un qualsiasi argomento di studio può essere presentato agli studenti con canali comunicativi diversi. Allora per spiegare quell'argomento magari posso usare un video oppure un audio oltre alle mie parole, bisogna uscire un po' da questa frontalità eccessiva che c'è e che ci caratterizza un po', quindi mettersi in gioco, scendere dalla cattedra però cambiare anche l'ambiente classe, la disposizione anche della mobilia insomma servono tanti cambiamenti. Ecco, probabilmente oggi ci vorrebbe un ambiente più dinamico in classe e professoressa Zudic, lei di futuri insegnanti ne ha visti tanti quanto influisce il carattere di una persona poi anche nel suo aggiornamento futuro per quanto riguarda la didattica e alla sua apertura. Sì, questo è una cosa che forse non dovrei dire qua perché di solito è difficile cambiare il carattere e pertanto è molto importante che uno ad esempio forse potesse riconoscere da solo che è bene che faccia questo tipo di mestiere perché non è un mestiere facile perché a noi insomma come abbiamo sentito ci vengono richieste tante cose e allora devi essere ben consapevole di quello che fai e sicuramente fare un mestiere come il docente con una certa volontà e desiderio e quindi ad esempio se lo vivi in un certo modo lo fai anche con piacere. Ecco, pertanto io, si può forse, forse anche insegnando, insomma facendo formazione noi cerchiamo di fare di tutto però io penso che forse ci sono anche alcune persone che forse sarebbe meglio che non facessero questo mestiere. Dunque è un mestiere impegnativo da tutti i punti di vista. Bene, il nostro tempo a disposizione è terminato io ringrazio per aver partecipato a Tg Scuola e bocca al lupo per i vostri impegni appunto e grazie anche ai telespettatori per aver seguito la trasmissione e vi do appuntamento la prossima settimana. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.